Robertino, sarà anche il caso che tu impari a Faruti che aveva 14 anni, guarda Babbo Babbo non ce la farai mai, o me faccio, via! Vai, che non ce la farai mai, andiamo! No, 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 Babbo! Dai, fai bravo, ti pigli ammalate, eh! No! Dai! Ti prego, Babbo, no! Mettiti in posizione, preparati! No, Babbo, no! Andiamo, te le do, eh! Va bene, Babbo, ma come fa? Dai, fai vedere a Babbo, messi bravo! Mettiti in posizione, poi Babbo ti compra Pokémon per premio, vai! Andiamo! Babbo, ma non me la sento! Ehi, e questa scurreggia vestita di infante ossa vorrebbe signifiare, scusami! Così, guarda! È bisogno! Mambo, ma come fai? O se mangi, eh! Di solito la merda, però puoi provare anche te! Andiamo, cariati, ammori! Mi accarezzo il pancreas di così! Trovo! Oh, io dì! Hai visto? Mambo, ma è riuscito! Oh, bravo! Mambo, ma è riuscito, sono stato bravo! Bravo, bravo, forse se ti strizzavo oglioni era merito! È meglio, ma comunque... Arrivederci, Babbo!